Ciao ragazzi sono Nex e bentornati su Brawl Stars Oggi siamo qui perché raga Allora a parte che abbiamo sbloccato la mega cassa delle 5000 coppe Quindi prossimamente la apriremo Non ve la apro subito perché voglio fare Buu raga l'apertura shot per il leggendario Ovvero mi apro almeno 4 o 5 bauli enormi E una mega cassa Qualcosa dobbiamo trovarlo assolutamente Anche perché mi mancano tipo solo Eugenio E appunto gli altri 2 o 3 leggendari Vamos coi balassi della verità della... No Leo non ce lo trovo neanche raga Ma neanche se mi metto a pregare il ginocchio su della ghiaia trainata da un mulo Non ce la farò mai Però comunque Franco mi va bene Signori Franco e Carlo mi vanno bene Franco e Carlo mi vanno freddo e il mulo Io però voglio un leggendario Mi trovi un... Allora Questo mi piace tanto Allora ma se vi secondo mi trovi un leggendario Ma va bene anche delle gemme O non lo so magari anche Rosa che poverete a livello 2 Prende delle stangate addosso che sembra che non so Non lo so sembra L'uomo della porchetta al cortino vegano Che viene pestato con i broccoli Cioè non è che è così bella come cosa Non è bella No ma neanche quello che trovo è tanto bello Non è che sono troppo fortunato 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 Pam Qualcuno che è a livello basso Per favore Per favore Oh yes Questo mi piace Un 8 gemmozze Signori ci stiamo 8 gemmozze Mo piacere tanto ragazzi Mo piacere Lo chiamate Rosa e le gemme Signori Manca solo il leggendario Manca solo Il leggendario Ok ci ho sperato Diciamo Ci ho sperato si Mai Però mai una gioia Quella mai Quella mai E signori Direi che ci siamo Signore e signori Salto dalla quaglia E chi meglio di lui Chi meglio di Franco Quella sua mazza Può rappresentare appunto Tale Tale sistema Mia madre Sopravvivenza in due Ladies and hombres E siamo assieme A Signore e signori Ti prego non darmi ambrosio Che se non strui lo Spike Signori Ma rutta Quando gioca Franco Ce l'ha fatto caso Signori Siamo con Spike E la cosa devo dire Che mi piace Signori Spike Mi piace Perché è veramente Veramente forte Potevo uscirmi dal baule Così facevamo due Spike No ma non devo trovarlo E Spike Perché non posso trovarlo Io se trovo Trovo Oh tra l'altro L'abbiamo No ti prego Connessione Non fare la bagian No no Ti prego Tra l'altro Basta Picchiare ambrogio Che rutta Tra l'altro Avete fatto caso Che ho già avuto Né Anita Né ambrogio La cosa Mi piace Ambrogio Ecco Ovviamente Non ce l'ho io Però mi viene comunque A tormentare Ambrogio Tra l'altro Mi hanno già 6 I potenziamenti Sti maledetti Lascia mettere di picchiarmi Frago Che si picchia lui Con la mazza E poi sono dolori Allora Vediamo di Fare un po' De fiesta A me con me O fai fuori Quest'orso Ok c'è stecca Vai spike Vai spike Bravo Non ci credo No No ragazzi Allora sto spike È fortissimo No che il mulo Si ricae Brava Lorgio Lorgio Maledetta Un è morto Ok Ok Hanno ammazzato anche il mulo Poveretto C'è il panotto al tipo di fianco Shelly Come stai Mi hai fatto male Shelly Fatti vedere Fatti vedere amica Che ammazza di Franco Non per due Ammazza De franco Franco c'ha de mazza C'ha de mazza Mas Posso essere così sfortunato Che mi spavone l'immortale Tanto è l'orso di prima Signor orso Venga qua Oh ma c'è anche il badilo Signor badilo Salve Come sta Come andiamo Mambroso Mambroso ragazzi Mi giuro mi stimola una cattivere Che è bestiale Salve signora rosa Anche lei vuole provare Il big bamboo Di 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 franco Franco big bamboo C'ha sei amico Solo fai vedere Tu che faccio vedere Big bamboo Ok basta 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 Maledetto Maledetto Ambro Ambrosio Ragà Se morti Sm'attaccaverò morto Se morti Sm'attaccaverò morto Spike ragazzi è bravissimo Sto Spike ragazzi è bravissimo Sto Spike ragazzi è veramente Una roba spettacolare Spettacolare Ok nice Ambrogio Ambrogio Vieni qua Ambrogio Vieni qua Ok Ok Maledetto Basta Io voglio Voglio Ambro Bravo Fortissimo Spike è fortissimo Ok Nice Colmo finale Ah ma rimasta Ambro Raga Ma è tornato in vita E chi l'ha vista questo Tanto Ho avuto un attimo che ho detto È finita la partita Poi invece è tornato in vita Il suo compagno Che era Tara Ma ragazzi Spike Ragà Il mio compagno di squadra Ragà è un fenomeno Spike è stato un fenomeno Filomena come si chiama Un fenomeno Ragà GG per noi Franco Eccatus La porta da casa Signori fantastico Signori fantastico Franco Ha fatto vedere appunto Chi comanda Col salto della quaglia Vamos con i prossimi Bavolozzi Cominando La bellezza di Beh non è così tanto bello Tornare da un salto Dalla quaglia E trovare subito Ambrogio Non è che mi dà così Un moto d'orgoglio Così voglia di vivere Che vorrei impiccarmi adesso Queste proprio mi piacciono ragazzi Oggi siamo già quota 13 13 gemme 13 gemme Is nice Ancora Ambrogio Ancora Ambrogio Another time Ambrogio I found another time Ambrogio Non lo voglio Ambrogio Non me lo trovi Ambrogio Per favore Niente Ambrogio Niente Ambrogio Signori Ci siamo È lui Brawler mitico Signori troviamo Eugenio Signori Eugenio Cosa succede Mamma mia L'uomo con la testa Che sembra il pene L'ultimo brawler mitico Che mi mancava Signori Signori Il salto della quaglia Ha funzionato un'altra volta Ragà Assurdo Troviamo Anche Quella bestia di Eugenio Mamma mia Raga Cosa succede In 16 bauli gratuiti Un urlo che è bellissimo Troviamo Ambrogio Sì Che Ambrogio Aiuto Ragà Uccidetemi Troviamo Eugenio Raga Fantastico Finami i bauli Adesso vi prego Basta Ho il terreno Di trovare qualcun altro Se trovo un leggendario Buone No La mia paura adesso È che se trovo Un altro tipo Leggendario Eccetera Come lo chiamo il video È come ho trovato Frank Hettar È sempre la solita storia Non mi trovare più nessuno Non mi trovare più nessuno Ok va bene Ambrogio Piuttosto Ambrogio Non mi trovare niente Per voi Il prossimo video Adesso no Adesso no Ti prego Niente di niente Bravo Ok ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Non mi trova nessuno Non mi trova nessuno Non mi Gelo ancora Ti prego Ok no Niente Raga Le due enormi Le provo la prossima volta Io raga se le apro Trovo dentro No Non mi attento No Raga proviamo un genio Per oggi basta casse Arraffagemi signore e signori Siamo assieme a Ladies and hombres Rosa E a Tara Signore Allora Vabbè lasciam perdere Un letto che fa Che buono È fantastico No Non mi laggare Allora raga Se cappello o qualcosa Scusate ma non lo so usare Tipo È il first trying È fitness Proprio La prima volta che lo provo Quindi devo capire un po' come funziona Ok Paraboni 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 Ma fa il verso della papera Cosa fa Eugenio non ho capito Sembra un papero Se dove li prendiamo Siccome ci massacrano questi Ci massacrano questi Ok Ma la super fa danno O lo trascina solo Non ho capito Comunque ragazzi Abbiamo già fatto due epic shop Micidiali Abbiamo fatto fuori sia Rosa che T-Piper Voglio questo Ecco No 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 Devo guardare lui Devo guardare sotto i piedi Invece che guardare dove mi Roba Perché sennò sono Fa figlio al male No 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 Ok Non fa danno Non fa danno Non fa danno Non fa danno Se lo tiro addosso Non fa danno Ok Va bene I miei compagni Sono fenomenali Basta Fa il papero Te Che sembri Paperino Non si capisce niente Signori Ok Stiamo in vantaggio Per favore Pronta Viper scufosa Ok No 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 Scappa via Scappa via Non te ne fa fregare Non te ne fa fregare Io sto facendo un po' Da Il prendi botte Faccio un po' L'assorbi botte Giusto per Giusto per evitare che muovino quelli con le gemme Ricchiate me Lasciate stare loro Lasciate stare questi Ma non siamo più a 10 Siamo ancora a 9 Ok È un po' sofferto È un po' sofferto Io sembro ancora che mi ammazzi Grande Così ti voglio Bravo 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 Rosa Brava Rosita Rosita Che non è la gallina di Banderas Ma è rosa Mamma Ragazzi sono due fenomeni Questi sono due fenomeni Sono due fenomeni Signori Io ho preso un sacco di botte Ma dicevo che sto fatto un po' Il protettore Dei miei compagni Il protettore Dei miei compagni Signori Ma siamo messi così Ragazzi GG GG assolutamente Sono stati due fenomeni Ragazzi Questi due ragazzi Sono due fenomeni Signori Prendiamoci le nostre coppe E finalmente abbiamo Tutti i brawler Tronditi e leggendari Vedremo nel prossimo video di aprire Sia la megacassa Che tutte le casse enormi Che riuscirò a farmare Questa settimana Quindi ragazzi La prossima Andiamo dritti dritti Sui leggendari E stavolta Non ci scappano Proprio mi vedo lì Apro la megacassa E dentro troverò lui Ambrogio